Ecco, ci troviamo al termine degli allenamenti della vittoria di Castelfrentano, ci è venuto a trovare una volpe, oggi è una spia. E vediamo se non si baurisce di solito, non sono socievoli, eh bello, vieni qua, ecco la volpe giallorossa, ma non so se è venuto a spiare, è della concorrenza, bravo, bello. E la volpe si è allontanata.